La prima volta di Fabio Quagliarella da ex nel giorno in cui si incrociano i sogni del Napoli, le paure dell'Udinese, nel giorno in cui Mazzarri si gioca la sua imbattibilità di 15 partite, nel giorno in cui De Biasi vuole invece cercare la prima vittoria della sua gestione, tutto questo è Udinese-Napoli. Quagliarella, Denis, Amsic, eccolo Marek Amsic, ha spazio, Amsic in area di rigore, Amsic! La conclusione, la parata di Andanovic. Pallone sul secondo palo, lo destacca Floro Flores, Asamoah, calcio di rigore. Calcio di rigore per l'Udinese, fallo su Asamoah. Qui c'è stata un'ingenuità, un'altra difensiva. E giallo anche per Maggio. Perché fanno colpire la palla di testa tutto solo a Floro Flores, guarda Gianluca. Di Natale, De Santis! Di Natale! Rompe l'incantesimo di De Santis. Settimo minuto. Limita Dosseno con il destro. Andanovic su Dosseno. Marek Amsic, movimento di Denis. Denis, posizione regolare. Andanovic ancora, Maggio! Il pareggio del Napoli! Si fa perdonare l'errore sul rigore. Cristian Maggio, 1-1, quinto gol in campionato. Comunque, innesimo inserimento di Amsic. Molto bene, momento giusto, inserimento giusto. Palla data anche altrettanto bene. Lui tira la prima volta e Andanovic ne spinge. E poi Maggio, guarda, interviene e passa sotto la pancia, metto le gambe and Andanovic. Hiller, prova la conclusione. Hiller! De Santis ancora! E ancora Asamoa. Entra in aria, cerca lo spazio per calciare. Asamoa la mette in mezzo. Flora Flores! De Santis! Su Pepe! Denis salza la testa, cerca di rimetterlo in mezzo. Che palla! Guagliarello attraverso! Mamma mia! Maggio ancora palla buona per il Napoli. Maggio viene ammonito per simulazione. Ma era già ammonito. E quindi rosso. Capoli in dieci. Voglio rivederla. Voglio rivederla. Voglio rivederla. Capoli in dieci. In corsa di Pepe. Inclusione a giro che si perde sul fondo. Poi ancora Guagliarella. Al limite prova a calciare Guagliarella. Mamma mia! Il cross per Guagliarella che stacca di testa. Pogliacino. Cigarini al limite non riesce a calciare. Ci prova pazienza. Polo! Polo di pazienza. Clavoroso! Non è vero. La pallesta lì. Di Natale al volo. Di Natale! Hai visto? Il finale questa volta dell'Udinese. Quanto toghi Natale. È colpietta e quindicesimo gol in campionato. Grande gol comunque. Niente da dire. Sta palla che è venuta fuori. Sporca. Lui l'ha lasciata cadere. L'ha colpita a volo. Niente da fare. Sono i suoi gol. Attenzione a Di Natale. Ancora Di Natale. Solo davanti a De Santis. Di Natale. Di Natale. 3 a 1. Finisce qui. L'imbattibilità del Napoli di Mazzarri. Nelastante le polemiche. Comunque c'è un episodio eh. C'è un episodio perché c'è la grava che faceva. Praticamente teneva la gamba a Floro Flores ed è rimasto in gioco di Natale. Vecino per Quagliarella. Quagliarella, Andanovic in calcio d'angolo. Quagliarella, Andanovic in calcio d'angolo.